I voli diretti sulla tratta Milano-Reggio dal prossimo 30 ottobre, chi prova ad acquistare un biglietto sul portale ITA da Reggio a Milano o viceversa, si troverà davanti ad un bivio sino al 29, i diretti sono disponibili dal giorno successivo, bisognerà fare scala a Roma. Abbiamo provato solo per limitarci agli aeroporti più vicini a fare la stessa cosa per la tratta La Mezza-Milano e Catania-Milano, voli diretti regolarmente, presenti anche dopo il 30 ottobre. L'ennesima denuncia arriva dal comitato difendiamo l'aeroporto dello stretto da Milano, i cui iscritti sono da tempo valide, sentinelle in pratica, quanto denunciato dalla Gazzetta del Sud lo scorso febbraio, si ripete in quel caso, la data limite era il 26 marzo. Dal giorno successivo infatti non era più disponibile il tagliando con volo diretto, a seguito dell'articolo e delle proteste di comitati cittadini, associazioni, forze produttive, sindacali e altre ancora, i voli furono ripristinati. Non sappiamo se la stessa cosa avverrà anche in questo caso, sottolineano i rappresentanti del comitato milanese, ad oggi però lo Stato di fatto è questo. I voli diretti, come dicevamo, non sono disponibili da e per reggio dal 30 ottobre. Tanti, nostri iscritti regini e messinesi, vorrebbero acquistare sin da adesso i biglietti per le festività natalizie, tra l'altro la compagnia sta inviando via mail voucher con sconti, ma per raggiungere senza scali le nostre città la scelta è obbligata o la Mezzia o Catania non reggio, adesso evidenziano dal comitato il Presidente Alessandro Panuccio, Gianni Caride e Michele De Felice. Attendiamo dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, dai nostri parlamentari facenti funzioni di regge della città metropolitana, Paolo Bronetti e Carmelo Vessace delle novità. Nei prossimi giorni proveremo a contattarli, il numero di utenti interessati ai voli è davvero enorme, molto più di quanto si possa immaginare considerando chi è residente da tempo in Lombardia ed ha i parenti giù e gli studenti universitari domiciliati a Milano e dintorni, oltre coloro i quali sono in tanti per motivi di salute che devono raggiungere le strutture sanitarie in Lombardia. Sin qui il grido d'allarme del comitato, al momento però il problema all'aeroporto dello stretto si ripropone nuovamente sperando che la soluzione non sia l'ennesimo tampone ad una struttura moribonda.